Maionese super cremosa pronta in un minuto a casa? Avrei bisogno solo di tre ingredienti e ti assicuro che una volta fatta non la comprerai più. Rompi l'uovo all'interno del bicchiere del fruttatore ad immersione. Ti consiglio di utilizzare uova fresche biologiche freschissime. Però se non sei sicuro della provenienza e anche della freschezza, puoi utilizzare un uovo sodo. Verrà comunque bene e sarai sicuro. Aggiungi l'olio di semi di girasole, meglio se è freddo. Quindi mettilo all'interno del frigorifero almeno un'ora prima. Poi aggiungi un cuccaio di aceto. Ma se non ti piace puoi sostituirlo con il succo di limone. Ci starà benissimo. Un pizzico di sale e... Ci credi che abbiamo finito? Ora dobbiamo solo frullare. Prendi il frullatore ad immersione e inizia a frullare dal basso per qualche secondo. Poi muovilo con dei movimenti delicati dall'alto verso il basso. Ed ecco qua che si sta formando la maionese. Se la maionese non ti viene o impazzisce, nessun problema. Puoi recuperarla. Ti lascio qui nel box informazioni il trucchetto per farla tornare bella cremosa e non buttarla. E in meno di un minuto, eccola qui. Super cremosa, saporita ed irresistibile. È veramente perfetta per ogni piatto, eh. Guarda, visto che è così veloce e semplice da fare, io ti consiglio di farla sul momento. Però se vuoi conservarla, puoi farlo mettendola in frigorifero per massimo tre giorni. Io comunque l'amo all'interno di un bel hamburger. Credimi, te lo svolta. Assaggiamo. Mmm, wow. Favolosa, la mangerai a cucchiaiate, guarda. Troppo buona. E invece tu, dove la usi più spesso? Dimmelo qui sotto nei commenti, che poi ti leggo. Ciao! E invece tu, dove la usi più spesso?